oh ciao giovanni che bello vederti sto facendo una passeggiata al palazzo di ghiaccio mentre uno dei miei elfi da da mangiare alle renne sta dando loro dei licheni magici sono ciò che le fa volare quando avranno finito farò un volo di prova con loro intorno a tutto il mondo e chissà potrei volare sopra dove vivi tu a napoli ecco la galleria del palazzo di ghiaccio qui appendiamo le fotografie più belle giovanni ecco la tua hai quattro anni non è vero e vai all'asilo so che c'è un dono speciale che ti piacerebbe ricevere fai parte della mia lista dei buoni quest'anno spero di sì mamma natale gli elfi e io abbiamo un sacco di sorprese per te giovanni devo fare il mio solito giro con le renne ora puoi usare di nuovo la tua console polo nord portatile per parlare con me buon natale ho 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 oh Grazie per la visione!